Può anche darsi che qualcuno tragga spunto dalle nostre angosce, eh? È quel che dicevo poc'anzi. Eh? Perché di gente come noi, ce ne sta e come. Come urlare di avere un cancro al cervello, però. Questa platea. Il mio dolore. Da adesso in poi non è soltanto il tuo dolore. Un fastidio. Questo senso di inadeguatezza che... Il tuo dolore è il mio dolore, capito? Sì. No. Il tuo dolore d'ora in avanti sarà il dolore di tutti. Il tuo dolore d'ora in avanti sarà il dolore di tutti. Il tuo dolore d'ora in avanti sarà il dolore d'ora in avanti sarà il dolore d'ora in avanti sarà il dolore di tutti.